Devi uscire con un uomo? Benissimo, oggi cerchiamo di entrare nel misterioso mondo del linguaggio non verbale. Anche perché sai, con le parole si può mentire, anzi noi siamo bravissimi, siamo i maestri nel dire cazzate. Ma il corpo non mente mai. Sicuramente alcuni di questi gesti già li conosci, ma un ripassino prima di uscire con un uomo non fa mai male. Partiamo dal contatto visivo. Se è interessato, di solito un uomo ti guarda dritto negli occhi, mentre se non lo fa potrebbe essere insicuro oppure potrebbe anche proprio dirti una cagata. Anche la postura dice molto sul suo atteggiamento. Se si inclina verso di te è di solito un segnale di interesse. Se invece si allontana o incrocia le braccia potrebbe sentirsi molto a disagio. Gesti come toccarsi il viso, soprattutto il mento, potrebbe indicare molto nervosismo. Altra cosa che forse non sai, le donne durante il corteggiamento giocano con gli oggetti. Gli uomini invece lo fanno solo se sono estremamente nervosi. Altra diversità, le donne si mordono il labbro, non così però, per mostrare interesse. Mentre gli uomini invece sorridono come degli ebiti. Ultima cosa, la distanza. Se si avvicina e ti tocca non è di solito per invadere il tuo spazio, ma indica familiarità e interesse fino a un certo punto perché altrimenti diventa polipo, viscido e non va bene. Comunque ovviamente il linguaggio del corpo può variare da persona a persona. Devi sempre contestualizzarlo e associarlo alla personalità della persona che hai di fronte. Bocca al lupo!